Siamo qui con Elena Ghisellini che ci racconta la sua nuova collezione per l'autunno inverno 2013-14. Cosa vediamo in questa nuova collezione per il prossimo autunno inverno? Questa nuova collezione è ispirata alla felinità e alla donna felina, al suo carattere forte, alla sua consapevolezza di indossare anche delle cose molto particolari. In questa collezione ho studiato il musetto del gatto, stilizzato e portato come segno riconoscibile sugli accessori di tutta la collezione, giocando moltissimo anche sul colore, che dà sempre molta allegria alle giornate di lavoro e di impegno. I materiali sono molto preziosi, ci sono moltissimi colori mixati insieme in tutte queste elaborazioni di superfici di pellami e di preziosità messe insieme. E la produzione delle vostre collezioni dove avviene? La produzione viene assolutamente, tassativamente in Italia, in modo particolare a Firenze, tutti i materiali sono italiani e sfruttiamo al massimo le capacità dei nostri artigiani che sono eccezionali.